Ciao ragazzi bentornati sul canale appena uscita la nuova versione di home assistant quella di giugno noi ovviamente abbiamo già installato la beta e l'abbiamo già provata e quindi ragazzi seguitemi che vi farò vedere tutte le novità di questo mese quindi vedete che abbiamo installato appunto la versione 6 2023 beta 2 allora una delle più importanti novità di questa versione è la possibilità di andare a integrare degli spazi di archiviazione esterna tipo non so se avete dei nas cunamp o sinology per poter diciamo utilizzarla poi all'interno di home assistant per esempio la cosa basilare è quella di poter effettuare i backup quindi che noi in questo momento magari andiamo a fare con i plugin esterni per esempio quello di drive di google drive dove andiamo a fare appunto di backup schedulati e mandare su lì i file finalmente li potremo fare sulle nostre unità di archiviazione esterne quindi come andiamo a fare questa cosa nel menu impostazioni ci sarà una diciamo voce che consentirà quindi la voce archiviazione che consentirà appunto di andare a settare il nuovo spazio di archiviazione ok quindi andiamo a prenderla andiamo in sistema archiviazione come potete vedere abbiamo il disco dati che in questo momento è locale ovviamente quindi se sul raspberry se ce l'avete sul raspberry locale con il relativo spazio utilizzato e finalmente la possibilità di andare ad aggiungere delle archiviazioni di rete ora vi farò a vedere come per esempio poterlo fare con un nas sinology ok intanto andiamo a vedere prima di tutto che cosa dobbiamo completare per poterlo collegare allora quali andiamo a dire ad esempio un nome no quindi facciamo finta che noi in questo momento lo utilizzeremo come spazio di backup quindi sinology backup per esempio a questo punto gli daremo che l'utilizzo del tipo backup può essere anche utilizzato per l'appunto ad esempio inserire film medie quant'altro piuttosto che uno spazio in generale condiviso qua dovremmo andare a identificare indirizzi ip del nostro server sinology ok e andargli a dire di che tipo è la nostra condivisione in questo momento supporta solo due tipi di condivisioni quindi chips e nfs ok quindi adesso andiamo a vedere come poterlo configurare su un sinology nas in maniera tale da poter andare di fatto a utilizzarlo ci spostiamo sul sinology nas basterà andare in pannello di controllo a ragazzi se vi interessa lasciatemi lo scritto se mi interessano delle guide sul sinology nas che magari faccio dei video sulle potenzialità e su come questo si può integrare poi di fatto con oma assistant quindi basterà andare in cartella condivisa per esempio crearne una nuova andargli a dare un nome quindi ad esempio ht test ok come descrizione gli daremo la stessa cosa vabbè qua gli dovremmo dare il volume su dove posizionare questa nuova unità di rete quindi questa nuova cartella condivisa possiamo nasconderla dalla mia rete togliere l'abilitazione del cestino quindi andare avanti se vogliamo crittografare la cartella ma non è questo il caso abilitare delle quote avanzate eccetera eccetera ma anche in questo caso non ci interessa e fare applica ok attendiamo la fine della lavorazione poi dovremo andare a dare ovviamente dei permessi quindi quasi più ci sono i miei utenti a questo punto io lascio i permessi di default che sono quelli che vengono ereditati ma vi consiglio di creare un utente apposito e di dargli ovviamente i permessi sia diciamo permessi classici sia nfs nel momento in cui la utilizzate come share nfs ok una volta fatto questo potete fare ok e la parte di configurazione del lato nas l'abbiamo terminata ora andiamo in impostazioni e dovremo andare a indicargli ovviamente l'indirizzo del server in questo caso il mio è questo ok mettiamo lo samba classico di windows perché l nfs non glielo ho impostati dobbiamo dirgli qual è il nome della condivisione remota che quindi qua avevamo visto che era h andiamo a rivederlo nelle cartelle condivise l'abbiamo chiamato h underscore test ok quindi qua basterà mettere h underscore test dagli ovviamente il nome utente per poter entrare la password ok che nel mio caso sarà questo qua e provare a fare collega ok vediamo se il collegamento avrà successo tendiamo il termine del collegamento e poi vediamo cosa possiamo fare a questo punto ecco qua ha avuto successo quindi qua sarà possibile di fatto avere questa nuova share che poi qua sarà anche possibile eliminarla o comunque modificarla per la nostra spazio di backup quindi se andiamo in backup che in questo caso come potete vedere qua ho di fatto il plugin ok però per poter il plugin che va a backupare il tutto l'atto google drive come vi accennavo ok ma in realtà noi dovremmo farlo con il backup classico di home assistant questa cosa adesso vi faccio vedere come fare quindi dovremo andare nelle impostazioni a questo punto sistema andare sulla parte di backup che è quella invece di home assistant quindi non quella del plugin e andare su questi tre puntini e di modifica la posizione di backup predefinita e assicurarci che abbiamo la nuova posizione di backup e non più solo quella classica interna ok della memoria interna così non andremo più a consumare memoria interna questo punto una volta che l'abbiamo modificato il nostro plugin in realtà che esporta su anche su google drive nel momento in cui farà dei backup perché si sfrutta le potenzialità del sistema oltre a questo punto a farle su google drive le farà anche direttamente sul nostro disco di rete separato ok che poi a sua volta potremo anch'esso sottoporre a un altro backup quindi ce l'avremo anche volendo il geografico se il nostro nas ce l'abbiamo da un'altra parte oppure fare un classico crea backup nome del backup test backup completo potremo anche proteggerlo con password volendo e a questo punto mi sta creando il mio backup della mia installazione di testo massistan questa volta sulla parte di rete ok un'altra novità degna di nota è la rivisitazione della pagina delle integrazioni ragazzi che a questo punto è diventata molto più leggibile al di là di tutte le periferiche rilevate eccolo vedete qua come come è cambiata e infatti non abbiamo più quei comodi scroll scomodi scroll nel momento in cui ci sono tante diciamo dispositivi sotto le integrazioni è molto più chiaro quello che sono delle integrazioni personalizzate con queste con cina piuttosto che quelle che dipendono comunque da internet piuttosto che invece ad esempio quelle di espon che non dipendono per andare a configurarlo la pagina è anche questa diventata molto più interessante e anche intelligente prima di tutto abbiamo la possibilità di configurarlo tramite questo bottone le periferiche rilevate piuttosto che andare ad agire su questi pulsanti per ricaricare o andare sulle opzioni dei singoli dispositivi insomma mi sembra molto tutto più leggibile e più chiaro nella nuova pagina integrazione altra novità sono la parte di luci quindi delle entità luci ovvero nella schedina che adesso vi faccio vedere quindi andiamo per esempio su questa luce qua andiamo nelle sue proprietà e come potete vedere in realtà sono due le novità la prima vabbè che la schedina ora è più gestibile e come potete vedere possiamo gestirla in termini di luminosità in termini di accensione spegnimento e se avesse anche i colori ci sono anche tutti i colori bottoncini qua sotto e in più l'altra novità la richiesta è stata aggiunta finalmente quanto tempo fa è stata aggiornata comunque ha subito un comando questa entità vedete si rapporta ad esempio al 59 per cento qua dopo un po' si resetterà e è modificata non lo so 0 secondi fa due secondi fa perché abbiamo ovviamente fatto un qualcosa ok sulla sulla scheda faccio vedere ok vedete che mi dà quando è stata modificata questa cosa come avete potuto notare funziona in caso di accensione spegnimento in termini invece di modifica dell'intensità no ok questo nuova comportamento sull'ultimo aggiornamento è stato implementato ovviamente su tutti i tipi di entità ok un'altra cosa fatta dal team di home assistant è quella di andare a poter copiare tagliare o incollare dei singoli pezzi di automazione ok quindi se noi andiamo sulla parte di automazione in questo caso prendiamole una che già esiste e andiamo a prendere i tre puntini come vedete finalmente c'è la parte di taglia copia duplica ok molto comoda per aggiungere azioni attivazioni ripetitive oppure per tagliare da una parte inserire da qualche altra parte dei pezzi ovviamente di automazione questa è un'altra novità introdotta con questa versione ulteriore cosa sempre nella parte diciamo di automazione è poter sulla base di un progetto che abbiamo andare a identificare subito a colpo d'occhio quali sono le automazioni che vengono utilizzate tramite queste tre puntini e in questo caso vabbè mostrerà gli script che utilizzano in questo progetto ma nel caso sia di tipo automazione mostrerà le automazioni che utilizzano questo progetto in questo caso nessuna comunque è un filtro molto 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 interessante per andare subito a colpo d'occhio a capire quali sono tutte le automazioni utilizzate ora passiamo invece diciamo alle modifiche un po meno importanti per esempio sono state aggiunte delle nuove entità che ti permettono di chiedere l'utente in input data data e ora ok quindi sono tre nuovi tipi di entità in realtà perché date time e date time quindi nel momento in cui le mettiamo nella nostra interfaccia adesso non sto qua a farvelo vedere ma è veramente facile l'utente può inserire questi valori con l'aiuto dell'interfaccia grafica passando un attimo invece a delle integrazioni interessanti due ne voglio segnalare il prima è quella di youtube che con l'integrazione youtube a questo punto potremo andare a inserire i nostri canali che ci interessano direttamente su home assistant ok che si chiama proprio integrazione youtube quindi se noi andiamo a fare un vediamo se me la trova già perché siamo in beta quindi potrebbe anche non trovarla in questo momento google youtube e a questo punto immagino che ci darà la possibilità di inserire le credenziali in realtà sono gli di cliente queste queste informazioni quali dovete recuperare da google e a questo punto avete appunto la possibilità di avere a disposizione il vostro canale e configurarlo ok comunque vi invito poi andarvi a leggere direttamente l'integrazione youtube su home assistant di che cosa necessita comunque questa era una delle integrazioni che vi volevo segnalare e anche la possibilità l'altra è google ai quindi anche google si sta muovendo con il discorso dell'intelligenza artificiale ovviamente e quindi anche lì sarà possibile andare a sfruttare questa nuova integrazione che la google generativa ai conversation che di fatto ci permette ragazzi di poter interrogare non controllare la casa come avviene con assist ma di poterla interrogare per per chiedere delle informazioni sulla nostra casa per esempio quante luci sono accese quante tapparelle sono aperte eccetera eccetera perché perché di fa di base andrà a interrogare le informazioni esposte da home assistant ok e a quel punto riuscirà a avere diciamo le informazioni necessarie per poterci dare delle risposte sensate vediamo se in questo caso c'è ma dovrebbe esserci un po google 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 ai generative ai conversation eccola qua anche in questo caso dovremmo andare ad avere una chiave api a disposizione poi andremo successivamente a configurarvi ragazzi se vi interessa come configurare queste cose lasciatemi lo scritto nei commenti che vi farò un video dedicato perché è un po lungo non è così banale la cosa però vi assicuro che queste cose stanno diventando veramente potenti inoltre in futuro vi farò anche un video per sfruttare l'intelligenza artificiale veramente non adesso per chiedergli la capitale d'italia o robe di questo tipo all'interno proprio di home assistant quindi delle regole home assistant e no dread ok quindi anche qua lasciatemi scritto se questo genera di cose mi interessano che genera di fatto dei pezzi di codice proprio l'intelligenza artificiale senza bisogno che li fate voi queste cose qua ok bene ragazzi con questo più o meno vi ho detto tutto poi ci sono altre piccole diciamo novità ma vi invito a andarvi a leggere l'annuncio di rilascio quindi non mi resta che ringraziare il mio pubblico che mi segue e i miei abbonati che mi sostengono e darci l'appuntamento ovviamente alla prossima settimana quindi grazie a tutti e alla prossima ciao ragazzi ciao